ciao a tutti qui a menti taro oggi facciamo interattivo per vedere come poter manifestare i nostri sogni abbiamo tre mazzetti mazzetto 1 con il quarzo rosa mazzetto 2 con il quarzo di rocca e mazzetto 3 con il quarzo fumè prendete il vostro tempo potete anche stoppare il video per scegliere il mazzetto che preferite e ci vediamo con il primo subito dopo eccoci qua con il primo mazzetto quello del quarzo rosa lo vedete qua vediamo innanzitutto con la carta dell'oracolo le energie del momento osserva allora l'osservatore o tradurrei vediamo c'è appunto una piccola volpe che osserva la luna da lontano con un canocchiale questa è una carta che suggerisce che dobbiamo iniziare a fare un po di analisi sia all'interno di noi stessi ma secondo me molto più alla situazione alle persone che ci circondano agli elementi che possiamo influenzare studiarli appunto magari anche un po da lontano discretamente però iniziare ad analizzare i fattori in maniera diciamo oggettiva e razionale vediamo le carte tarocchi per i dettagli beh sì effettivamente abbiamo una forte energia di spade in questa stesa abbiamo il cavaliere di spade il 5 di bastoni e il paggio di spade queste carte ci stanno suggerendo che per realizzare i vostri desideri i vostri sogni dovete assolutamente far forza su la comunicazione sull'osservazione sull'analisi critica c'è una forza di movimento in ogni caso non è una osservazione diciamo statica riflessiva dove vi isolate dal contesto dagli altri come potrebbe essere suggerita da una carta come ad esempio l'eremita no qui è un'energia molto forte di movimento perché il cavaliere di spade è proprio una forza anche volendo impulsiva una voglia di comunicare di far forza con gli altri e il 5 di bastoni appunto indica questa voglia di scambiare idee con altre persone dovete appunto raggiungere qualcuno nel vostro contesto che può dare un punto di vista diverso con cui voi potete discutere e scambiare idee è molto importante lavorare però sulla comunicazione perché altrimenti rischiate di avere dei conflitti con queste con queste persone ed è assolutamente da evitare anche il paggio di di spade è una figura appunto che sta un po allerta e soprattutto una figura un'energia che promuove l'osservazione da lontano anche un po discreta diciamo anche un po nascosta agli altri per esempio volendo essere un po pratici in caso aveste un lavoro da fare magari potreste trovare delle idee con altre persone fare team ma allo stesso tempo osservare come gli altri che voi pensate abbiano avuto dei buoni risultati e farebbero al vostro posto insomma come hanno fatto e credere appunto nella possibilità di poter cogliere delle idee da parte degli altri sul lavoro degli altri non vuol dire copiare vuol dire trovare ispirazione ecco questo vorrei chiarirlo e comunque sì per realizzare i vostri sogni questa stesa assolutamente indica una necessità di pianificare di analizzare bene i nostri passi prima di agire e anche chiedere l'opinione degli altri di fare un po team con il 5 di bastoni che è una carta che solitamente viene associata al conflitto ma non è vero indica anche appunto lavoro di gruppo con altre persone fare team building con appunto le altre persone è una appunto stesa che indica che questo è possibile che anzi c'è un'energia nell'aria in questo senso io penso che ci siano buone possibilità per voi di raggiungere i vostri obiettivi però appunto non fermatevi non bloccatevi scambiate le vostre opinioni cercate i punti di vista degli altri e soprattutto osservate attorno a voi le opportunità che potrebbero salire per il primo mazzetto è tutto passiamo al secondo benvenuti all'altura del secondo mazzetto allora vediamo le energie del momento questo è il quarzo di rocca è così lo riconoscete via un attimo peace allora energia momento è di un distacco emotivo come se appunto aveste fatto pace con voi stessi sulla possibile o non possibile realizzazione dei vostri sogni e siete un attimo così distaccati sereni può essere un vantaggio può essere uno svantaggio adesso vediamo le i dettagli con le carte dei tarocchi infatti interessante dunque i tarocchi indicano la necessità di un equilibrio ce ne sono ben due che parlano appunto di equilibrio che è il 2 di denari e la giustizia sono carte che ho comprato in austria quindi sono tedesco e qui è il re di coppe allora sì effettivamente i tarocchi confermano che per nel vostro caso per poter effettivamente ottenere i vostri sogni dovete fare raggiungere uno stato di pace mentale di distacco emotivo soprattutto come appunto è suggerito dal re di coppe siete probabilmente troppo attaccati al vostro sogno non siete lucidi abbastanza per planificare diciamo una strategia per per l'obiettivo per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati l'equilibrio soprattutto indicato dal 2 di denari è un equilibrio tra più fatti tra più domini nella vostra vita cioè è come se doveste innanzitutto riuscire a gestire la possibilità di lavorare per il raggiungimento del vostro obiettivo con altri fattori nella vostra vita che possono essere la famiglia la relazione che avete un altro tipo di lavoro che avete dovete sapere riuscire a gestire la vostra vita attuale con ulteriori implicazioni che raggiungimento di un possibile obiettivo cozzerebbero un attimo quindi bisogna pianificare assolutamente come integrare appunto il vostro sogno con quello che state facendo attualmente però anche un distacco emotivo una maturità emotiva una saggezza emotiva interiore come richiesto dal re di coppe la giustizia ribadisce il concetto di equilibrio ribadisce anche la necessità di razionalizzare la vostra situazione cercare di essere appunto dopo un distacco emotivo cercare di appunto pianificare i vostri passi con un razziocinio e appunto fair play nel senso una certa giustizia interiore e questo poi verrà realizzata insomma riceverete ciò che vi meriterete questo diciamo è il solito messaggio della carta della giustizia però sì in questa stesa è molto molto coerente dovete riuscire a raggiungere questo distacco interiore in modo da poter utilizzare la vostra razionalità e pianificare effettivamente come poter raggiungere il vostro obiettivo sia dal punto di vista relazionale che dal punto di vista professionale o in altri ambiti questo è tutto per il secondo mazzetto passiamo al terzo eccoci qui per il terzo mazzetto quello del quarzo fumè vediamo un attimo le energie del momento ok è il tic la carta del tempo diciamo il tic toc qualcosa quindi che è relazionato al tempo potrebbe essere una mancanza di tempo dei ritardi potrebbero essere anche il fatto invece che avete molto tempo vediamo un attimo le carte dei tarocchi per i dettagli ok dunque il tempo infatti è relazionato alla carta del 6 di coppe che è un qualcosa del vostro passato quindi c'è qualcosa del vostro passato che emerge e che potrebbe essere utile appunto per realizzare manifestare i vostri desideri è un qualcosa probabilmente che viene da lontano da da un passato un po lontano appunto e che vi è molto molto caro e che appunto potrebbe aiutarvi allora poi abbiamo la regina di denari e il papa o ierofante insomma il papa il papa assolutamente indica che c'è una qualcuno che vi potrebbe aiutare dovete cercare diciamo la consulenza di qualcuno che abbia l'expertise o l'esperienza per potervi dare dei consigli preziosi aiutarvi materialmente quindi probabilmente potrebbe essere qualcuno appunto che conoscete da tempo come il 6 di coppe potrebbe indicare per alcuni di voi o comunque che potrebbe aiutarvi a risolvere una questione che vi frena e che è legata appunto un'esperienza legata insomma al vostro passato questo può essere un diciamo un consulente di tipo tecnico potrebbe essere anche qualcosa di che sono terapeuta un maestro yoga che che vi può aiutare appunto con del blocchi emotivi che sono sorti da esperienze passate ma anche può essere appunto qualcuno veramente con una che può dare appunto un aiuto concreto nel raggiungimento del vostro sogno la regina di denari è una carta molto bella perché è una indica una persona che è finalmente radicata a terra e che quindi attraverso questo radicamento a terra questa questa solide basi può fiorire e può nutrire sia se stessa che gli altri quindi nel vostro caso mazzetto 3 io dico direi che appunto grazie appunto alla risoluzione di qualcosa che è legato al vostro passato probabilmente tramite l'aiuto di una terza di una seconda persona che ha un'autorità morale oppure una esperienza o una capacità certificata diciamo perché il papa indica un link con con la tradizione con le regole stabilite quindi qualcuno che ha comunque un certificato di qualità diciamo ecco qualcuno quindi che è considerato effettivamente un esperto in una certa materia voi potrete finalmente appunto costruire delle solide basi che vi permetteranno di fiorire e di quindi manifestare il vostro sogno la carta del tempo appunto dà molta importanza a qualcosa legato in questo caso al vostro passato indica anche che magari ci potrebbe volere un po di tempo per raggiungere questa base solida su cui crescere questo è tutto per il mazzetto 3 anche e se vi è piaciuto il video vi prego mettere un like iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella così da non perdere i prossimi video a presto